Cari amici di Vita Trentina, ben trovati. Abbiamo parlato poco in queste risposte creative, in questa carrellata che ci viene segnalata attraverso il settimanale Diocesano del lavoro manuale, ma sicuramente le mani sono importanti, non c'è solo il digitale e da Olle Valsugana ci è stata segnalata dalla nostra collaboratrice Mariana Malpaga un'iniziativa particolare, 13x13 cm di speranza. Alcune persone della zona collegate con Facebook si sono impegnate a realizzare dei lavori manuali a uncinetto, 13x13 cm, dei quadrati che poi vengono scambiati, mostrati attraverso Facebook, ma vengono anche realizzati dal vero e alla fine di questa emergenza andranno a comporre un unico grande lavoro, un modo per sentirsi uniti, intrecciati e anche poi per lasciare una traccia di queste giornate che passano anche attraverso un lavoro comune realizzato con le mani. Ci sentiamo domani.